Tanti auguri di buon compleanno Sabine Bertagnoli e grazie che fai anche questo per noi anche quest'anno e che ti prendi cura di noi di Quarantena Land e spero che organizzi anche qualcosa di nuovo per noi ragazzi di Quarantena Land. E ci vediamo presto. Ciao ciao. Tanti tanti affettuosi auguri per il tuo compleanno da parte nostra e grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra piccolina e per la nostra famiglia. Un abbraccio, auguri. Tanti auguri, ciao. Tanti auguri amica mia, buon compleanno, ti voglio bene, continua così, un bacio, un abbraccio, a presto. Tanti auguri, buon compleanno. Ma dai! Te l'ho già fatto? Dai, auguri, dai, fai, fai. Ciao Sabine. Ah no, aspetta, tantissimi auguri, complimenti per la splendida persona che sei, per tutto quello che fai in generale, per le persone che ne hanno bisogno. Quanti sono? 32, 33? Che c'è? Complanno di chi? Ah, sì, sì, dai, auguri, auguri. Tanti auguri. Un bacio. Vai, ciao. Allora? Ancora, basta. Ma quante volte compi gli anni? Dai, auguri, tanti auguri, va bene, dai, ciao. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla Sabi a te. Ciao Sabine, volevo farti gli auguri di buon compleanno e ringraziarti, Sabine, per tutte le opportunità che mi hai dato. Posso dire che la mia integrazione, la mia inclusione, una parte me l'hai facilitata tu, veramente, dandomi tantissime possibilità, tantissime emozioni che non ho, che fino adesso non avevo ancora vissuto. Con te, con Matteo, con la famiglia, ti auguro veramente un buon compleanno, con il cuore Sabine. È arrivato il momento di farti gli auguri, non avevo tempo, scusa, prima, mi sembra, hai sempre beccato il momento. Comunque, grazie veramente a nome di tutti per quello che fai, gli auguri sono sempre troppo pochi. Per tutte le attività che promuovi e l'impegno che ci metti e il cuore. Auguri ancora. Auguri, auguri, Sabine, chiunque tu sia. Voglio gli auguri? Sì, aspetta. Ok, aspetta, non c'è tempo per tutte queste cose. Auguri.